Novembre è una poesia di Giovanni Pascoli tratta dalla raccolta Mirice. Originariamente era intitolata San Martino come l'omonima poesia del maestro Carducci da cui è ispirata. È l'11 novembre la cosiddetta estate di San Martino, ma ciò che l'occhio vede non corrisponde all'illusione delle miti condizioni climatiche. Tutto infatti è secco e i colori funebri dell'autunno fanno da cornice al ricordo di coloro che non ci sono più. Ricordiamo che la locuzione estate di San Martino indica un eventuale periodo autunnale in cui dopo il primo freddo si verificano condizioni climatiche di bel tempo e relativo tepore. L'area semantica, cioè dei significati, che caratterizza questo componimento è la stessa che predomina in tutta la produzione pascoliana, il culto della morte come un sistema di segni che rimandano costantemente al ricordo di chi non c'è più. In questo senso il novembre è emblematica in quanto nonostante l'improvviso incanto dell'estate di San Martino, quindi l'aria che brilla come una gemma, il sole chiaro, gli albicocchi in fiore, l'esito è sempre quello dello smarrimento e dell'angoscia davanti alla prospettiva della morte, quindi il pruno secco, il cielo vuoto, il terreno cavo. Bene, questo è tutto. Per video più approfonditi su questo argomento o argomenti simili, date un'occhiata al mio canale YouTube dove troverete anche oltre mille video per la maturità e non solo. Su Amazon trovate invece i miei riassunti. Un enorme in bocca al lupo a tutti i maturandi. Alla prossima!